Eccoci qui con l'allenatore dell'AVF Farnese che oggi per la prima volta è stato partecipe del torneo di bocce quadre di Realdo e vogliamo da lui un commento della prestazione. La prestazione è stata ottima, abbiamo mangiato moltissimo, quindi... Quali ti riferivi di prestazione? Abbiamo mangiato compiosamente, però riguardo alla partita invece direi stupenda per il fatto che abbiamo perso. Perché se fossimo andati avanti, penso che avremmo subito dei cappotti micidiali, quindi... Alla fine abbiamo tagliato testa dal toro venendo eliminati la prima partita possibile. Comunque questo pasto frugale che avete consumato mi è stato detto che comunque fa parte della tattica di allenamento che ha voluto portare avanti. Abbiamo finito di mangiare circa durante la partita e questo è servito appunto per essere eliminati immediatamente, che era il nostro obiettivo di oggi. E quindi, visti gli ottimi risultati, probabilmente ci sarà un nuovo tentativo l'anno prossimo di bissare. E speriamo di avere la stessa squadra a disposizione, perché l'uno dei due elementi oggi non era molto soddisfatto alla fine. Nonostante abbia fatto un punteggio importante, gli unici punti diciamo voluti dalla giornata. Grazie mille per il suo tempo e speriamo di risentirci presto per commentare altre vittorie. Anche no, comunque va bene.